ciao raga siamo qui per chi ci ha da dire qualcosa io giustamente sapete benissimo che non faccio il carrozziere ma mi adeguo a fare tutto cosa ho fatto gli ho sbagliato e gli ho messo troppo diluente quindi mi è venuta troppo morbida voglia regolare vabbè si mette due pazzolettini in terra e che gocciola e poi vedete queste goccioline qui poi si scartano però raga ditemi voi se sono fatte bene oppure no questo è il boletto vabbè questo è il forno e ce ne frega nulla va bene ora questa è la prima mano gliene devo dare un'altra glielo darò un pochino più soda fischia si aspetta che asciuga un pochino si gratta le goccioline e si rivernicia tutto per benino per benino qui c'è la pk insomma e compri la parte più grossa e questi sono componenti si cerca di fare quel che si può fare nati imparati non siamo nessuno come si dice no però c'è chi si arrangiano e me perché questi sono uno due tre quattro su cinque pezzi sono un carrozziere su 50 euro l'uno fai conto voi io faccio invece un po' di vernici un po' di buona volontà mi metto qui e faccio il tutto d'accordo raga brilla guarda mi vedo io con il telefono mi vedo mi vedo io con il telefono da vernici però vedete questo ricco qua e non si deve vedere perché non si deve vedere perché questa è la prima mano ragazzi gliene devo dare altri due sopra quindi si andranno in meglio no mi saluto anche vai ciao raga video video bello schella žio fChe Kia